Vintinovesima domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo nella prima lettura la proclamazione dell'esistenza di un servo di Dio. Siamo nel capitolo 53 del profeta Isaia ed è una delle più poderose profezie della croce di Cristo che è offerto in sacrificio di riparazione e ha una discendenza. Malgrado essersi donato, completamente vivrà a lungo. Ecco, è il mistero pasquale, il mistero di un amore che va fino al dono completo di sé e non perde la vita ma la trova e diventerà una grande giustificazione per tanti. Ecco, nel Vangelo abbiamo questa richiesta dei figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni. Questi uomini che hanno abbandonato il Padre e che lo hanno seguito con generosità e hanno un desiderio. C'è una richiesta che al di là di un aspetto un po' grottesco di pretesa, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. In fondo questa è la preghiera. Noi nella preghiera ci avviciniamo chiedendo qualcosa a Dio, vogliamo che Dio faccia qualcosa per noi. Il problema è che mentre noi abbiamo un desiderio, Dio deve purificare quel desiderio, Dio deve darci le cose secondo Lui perché noi abbiamo una forma carnale, psicologica, mondana, terrena di chiedere. Noi abbiamo desideri che vengono fondamentalmente un po' dalle nostre paure, un po' dalle nostre fragilità e tante cose che si muovono in noi che ci portano ad avere dei desideri. Ma questi desideri hanno bisogno di essere visitati dalla grazia. Ed ecco come funziona che una domanda divenga una storia di vera comunione con Dio, di vera unione con Lui. Loro chiedono che cosa? Una cosa abbastanza comune. Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla sinistra. Cioè è la domanda della gloria, è la domanda del successo, è la domanda del raggiungere una posizione eminente, importante. È il desiderio dell'uomo di diventare qualcuno, stare uno alla destra e uno alla sinistra. Di sé questa è la domanda della grandezza, ma la vediamo anche comparire in tutta la sua bruttezza. Cioè il fatto di essere affermati, di essere arrivati. Questa ansia che ha l'uomo di vedersi nella realizzazione piena. Questo senso di incompiutezza dell'uomo, diventare qualcosa. Noi abbiamo sempre questo problema, diventare qualcuno o qualcosa. Il nostro punto, dobbiamo scoprirlo, non è diventare qualcosa, ma lasciare che Dio opere in noi. Infatti Gesù dice, voi non sapete quello che chiedete. C'è un calice da bere, è un battesimo in cui essere immersi. Cioè si tratta di accettare una sorte e di lasciarsi portare, lasciarsi immergere, lasciarsi calare in qualche cosa che dobbiamo accettare. Cioè c'è un calice, secondo quella che era la logica, anche il linguaggio che vedremo poi nella passione, che è appunto la sorte. Bere un calice o compiere i propri progetti? Ecco, qui cambia tutto nella vita. Quando ci apriamo alla strada che Dio ci mette davanti, quando assecondiamo la Sua opera in noi. E lui dice sì che voi berrete questo calice. Loro si lanciano, lo possiamo, sì. Va bene, tutto sommato Dio, queste nostre definizioni, questi balbettamenti, in realtà tutto sommato inconsapevoli di relazione con lui. Lui li accoglie pure. Va bene. Di fatto voi berrete il calice che io bevo. Cioè voi entrerete nella mia sorte. E sarete battezzati anche voi, sarete immersi in una vita nuova, in una cosa che adesso non avete. Ma tutto dipende da un punto. C'è una cosa preparata. C'è Dio che prepara le cose. Noi ci possiamo svegliare ogni mattina e cercare di compiere le nostre idee di gloria, le nostre idee di compimento. E invece le giornate vengono a noi. La vita viene a noi chiedendoci di bere il calice che Dio ci dà. Chiedendoci di immergerci lì dove Dio ci vuole immergere. Vivere nel battesimo che Dio ci vuole dare. C'è qualcosa che è preparato per noi. Non è importante che si realizzi ciò che noi pensiamo, ma che noi siamo dove Dio ci vuole portare. Questo è molto più grande. Ed è qui che si scopre che cosa veramente conta. Gli altri dieci si indignano per questa operazione strategica di Giacomo e Giovanni di riuscire ad ottenere un posto più importante. E si indignano. Cioè si arrabbiano. Perché? Perché sono uguali. Perché non sono diversi. Se fossero diversi, se avessero altri desideri, non si arrabbierebbero di essere superati battuti in strategia, battuti in velocità. Si indignano perché hanno qualche cosa come un posto da raggiungere, qualcosa di competitivo. La vita come un superamento degli altri, come uno stare in un luogo più importante. Ed ecco che Gesù, vedendo questa loro anima competitiva, spiega qual è il segreto della libertà e della pace. I governanti dominano le nazioni e i loro capi le opprimono. Questo mondo segue il senso del potere, segue il senso della vittoria. Nei piccoli contesti come nei grandi contesti, comandare è la cosa che attrae di più. Avere potere in qualche maniera, ma il vero potere è un altro. Tra voi, chi vuole diventare grande, sarà il servitore. Cioè quello che veramente vuole la grandezza, scoprirà dove è nascosta. Nella capacità di servire e custodire la vita altrui. Nella capacità di avere il potere di amare. Questo è il vero potere, il potere che Cristo mostrerà sulla croce. Questo potere che è enucleato già dalla prima lettura. Questo essere capaci di procurarsi una discendenza di vita. Entrare in una eredità di vita. Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire. Ecco, veramente, se non serviamo, ma a che serviamo? Ma se non ci apriamo a vedere la nostra vita come una sorgente di esistenza. Che meraviglia, assecondare i disegni di Dio, bere il calice che ci dà, lasciarsi portare al battesimo che ci vuole dare, perché diventiamo luogo di nascita, luogo di inizio, luogo dove gli altri possano trovare riposo. Che soddisfazione, che pienezza, che compiutezza è riuscire a dare la vita, per procurare vita. Quanto è bella la vita cristiana, se è intesa come un'abbandonarsi ai disegni di Dio perché Dio in noi riproduca la sua immagine. Lui è creatore e noi siamo sorgenti di vita, di pace, di perdono, di bellezza, di accoglienza. Venire sulla terra, tutti noi siamo tutti venuti per servire. E infatti, quando giungeremo davanti ai nostri ultimi traguardi, quando staremo davanti alla nostra fine, non ci chiederemo se abbiamo avuto potere, ci chiederemo se abbiamo amato, ci chiederemo non se abbiamo avuto chissà quanto, ma se abbiamo dato qualcosa. Questo realizza la nostra vita. Bere il calice che Dio ci ha dato. Lo possiamo, sì è vero, possiamo abbandonarci nelle mani di Dio e servire e diventare punto di vita, luogo di servizio, sorgente di esistenza.